Un vero e proprio supermercato della droga in un locale del centro cittadino e due punti di spaccio aperti H24. E' quanto scoperto in due distinte operazioni dei carabinieri di Cerignola nel Foggiano, 20 le persone indagate, di cui 11 destinatari della custodia cautelare in carcere, 4 degli arresti domiciliari e 5 del divieto di dimora, ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le ordinanze di custodia cautelare sono state messe dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. La prima indagine, avviata nel novembre del 2022, si è conclusa nel gennaio 2023 e ha consentito di documentare come sei indagati operavano in maniera da offrire un commercio assiduo e continuo di droga nel centro cittadino. Nel corso delle indagini sono state documentate oltre 1.300 cessioni di narcotico, con una media di 35 al giorno. Una persona è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illecita, finalizzata la vendita di sostanze stupefacenti e sette assuntori sono stati segnalati alla Prefettura. Inoltre sono stati sequestrati oltre 100 grammi, tra hashish, cocaina e marijuana. La seconda attività investigativa, avviata invece nel gennaio 2023, ha consentito di raccogliere elementi nei confronti di 14 indagati. I carabinieri hanno accertato le modalità di acquisto, trasporto e vendita al dettaglio di stupefacente effettuato nell'Inter Lancerignolano e in altre province limitrofe, documentando la compravendita di narcotico tra alcuni indagati, i quali, benché autonomi, sarebbero riusciti a garantirsi una costante disponibilità di stupefacente. È stato inoltre riscontrato l'allestimento di due punti di spaccio, rispettivamente nella residenza di un indagato, ristretto agli arresti domiciliari e nell'appartamento ubicato al ridosso del centro cittadino, dove sarebbe stata garantita un'operatività H24. Altri due indagati si sarebbero invece dedicati alle vendite a domicilio e su ordinazione.